Siamo in un tempo difficile da capire, sospesi tra la speranza di chi ce la sta mettendo tutta per salvare vite e tra il dolore di quelli che non ci sono più. Siamo chiusi in casa, dove nel silenzio assordante della notte non c'è più rumore, un suono, non si balla più. Siamo sempre stati nella forza di un abbraccio, nei colori del primo bacio. Siamo le parole della vostra voce, tra canzoni stonate al vento e attimi di vita che scivolano rapidi dal finestrino di un treno. Siamo la musica che cura l'anima quando tutto va male e il mondo non ascolta. Siamo quelli che nonostante le sconfitte e le ferite si rialzano sempre per cercare di darvi un mondo migliore. Musicisti, autori, DJs, ballerini, operai, tecnici, organizzatori, lavoratori specializzati. Lavoratori spesso dimenticati ed invisibili. Per tutto questo che rappresentiamo non saremo né i primi né saremo gli ultimi, ma saremo sempre noi.